Ben! Ben! Ottimo tempismo! Peyton sta per lanciare un attacco in massa! Keia dice che ha creato dei giganteschi mostri che ci spazzeranno via! La nostra unica speranza è di crearne uno anche noi, sfruttando le conoscenze sull'imbalsamazione di Keia! Ho già la testa, ma ho bisogno degli arti! Arti, Dan! Non mi interessa cosa devi fare per procurarteli! Dobbiamo trovare gli arti! Ora non è il momento di fare gli schizzinosi, Fortesque! Pensa a portarmi gli arti uno alla volta! Mettili sulla lastra e assembleremo il nostro mostro personale! Ok, ragazzi, ma cos'è? Scusate, tipo Frankenstein, non ho capito! 7.51, ok, questo che è pure a tempo! Maia, che male! Maledetti! Voi guardate che caspita devo fare con sto personaggio poverino! Basta, colpirmi male! Mi state facendo malissimo! Mi spiegate come caspita faccio a ucciderli sti qua? Che continuano a pararsi? Ci metto una vita per uccidere adesso! Oh, ok! 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 Mi hanno ritrovato una gamba! Due! Gamba destra, braccio sinistra, gamba destra! Ok! Quello cosa sarebbe il sedere? Scusate! Ok! Ah, ho capito! Devo portargli di subito questi qua! Ok! Prima che vadano male, diciamo! Ho capito, ho capito! Ma dai, ma veramente, devo... Cioè, portargli di singolarmente i pezzi! Oddio! Eh, dai, che male! Fate male! Finiti a di far male! Aspettate un po'! Ah, aspetta! In effetti potrebbe anche starci di usare questo qua! Proviamo a vedere! Aspetta, ho un po' rotto le balle, io ve lo dico! Che casino! Fa un stupezzo! Via, via, via! Dai che dobbiamo portargli questo! Prima che marcisca! Cioè, praticamente devo fare tutto prima che marcisca! Ok, le due braccia sono a posto! Ma tu guarda cosa! Cioè, sto gioco qua, veramente... Io ogni tanto mi domando che caspita! I piedi, i piedi, i piedi! Mi servono i piedi, mi servono i piedi! Aia! Madonna, ma fanno malissimo, cazzarola! Come caspita faccio! Aspetta un attimo! Guardate, ma se io faccio così... Guardate qua! E basta colpirmi! Ma quanti cazzo sono sti mob? Io vorrei capire! Fanno malissimo, fanno ragazze! Ecco! Ecco! Perfetto! Via, via, via! Ok! Cioè, sti qua praticamente... Ah, aspettate un po', non è che magari... Niente, niente! No, cazzo! No, cazzo! Bella! Attenzione, così funziona! Ok, devo usare queste bombe qua per poter fare le cose, altrimenti è un casino! Ok! Un braccio! Via! Sono veramente troppo forti, ragazzi, è quello il problema! Due gambe! Via, veloce, veloce! Ah, una sola ha preso però di gamba! Cioè, quindi non posso prendere più di un arto per volta, va bene? Ok! Ok! Uso bottiglia della vita, pure! Sapete che non ho visto qual era il braccio che ci mancava? Cacchio! Ok, perfetto! Ci manca la gamba sinistra! Sempre che non muoia! Ok! Gamba sinistra, perfetto! Proprio ciò che ci serviva! 100% del calice! Ok! Ora ci serve il busto, veramente? Con la sopra non so soltanto quando la prendo, eh! Quindi, allora, lì ci sono piedi, gambe... E... Oh, basta! Ok! Aspettate che proviamo a usare anche voi... Questa... Una curetta? Sì, uno scudo ci danno... Ci faccio molto quello scudo io... Ok, aspetta... Cura... Liga enorme, tra l'altro, benissimo... Qua dove si va? È chiuso... Fammi vedere chi è quello lì che mi sta rincorrendo, che è da un'ora che mi rincorre... È un pugno, no? Niente... Aspettate... 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 Ci manca il busto, ragazzi, è un casino da prendere il busto... Aspettate... Ma che aspetta faccia a prenderli, sti qua? Vai! Andiamo a far così? Sì... No... Oh, prendi sti cacchi di affari... Ok... Fondo schiena... Ok, perfetto... Siamo riusciti a prendere il fondo schiena, ragazzi... Madonna, che casino... Ok... Ora ci manca il busto... Ok... Ok... Eh, ma se qua non arriva più niente, mi sa che allora è di là che deve arrivare... Ok... Qua c'è il fondo schiena... Ok... No... Qual è la scorreggia al fondo schiena? E quindi che caz... Dove c'aspettavo da prendere gli altri oggetti? Ahia! Cacchio! Forse qua dentro? No... 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 Sì, ma il tempo, ragazzi, come cazzo... Me lo spiegate? Oddio... Aspetta un po'... Ok... Via, via, via... Andiamo, 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 andiamo... Oh... Ce la fai a non farti colpire? Dai, Sir Daniel, su... Rompiballe... Ok, di qua cosa c'è? Di qua... C'è stupifero... Ah, ok, ho capito, ho capito, ho capito... Per tutto... Ok... Sì, wey... Bring... Wey... Non ce la faccio, non ce la faccio... Però, più o meno, ho capito come fare per fare le varie cose... Quella sé... Meno qual... Ok, non trovo il busto, ragazzi... Non so dove andare a prendere sto cavolo di busto... Qua ci sono sempre solo i pugni... Sono quelle cose lì... E basta... Eccolo! Eccolo! Ok, farmi... Il busto! Il busto! Farmi che c'è il busto, ho trovato il busto... Ma manca la testa? No! Ok! Uh, è vero, la testa c'ha... Lol... Ecco... Siamo condannati! A meno che... Ecco, adesso ci voglio mettere la testa di Sir Daniel... Avete l'idea, ragazzi? Mi ci gioco le balle... Madonna, ragazzi... Oh, proprio allo scadere del tempo... Guardate com'è pompato Sir Daniel, ragazzi! Ma lol... Iron Slugger! Ok... Sackipung! Signore e signori... Benvenuti alla notte dell'incontro! La premiata ditta Poitorn in associazione con il Forze... Vi presenta un match all'ultimo sabio... Nell'angolo nero... Al peso di 126 kg... Con un record di nessun incontro e nessuna vittoria... Duncan Stry... E nell'angolo nero... Al peso di 198 kg... Con un record imbattuto... Di 40 vittorie consecutive... L'imbattibile... Inarrestabile... Sterminatore d'acciaio... Sterminatore d'acciaio... Che abbia inizio l'incontro! Ok, voglio un combattimento leale... Il primo che mette a terra l'avversario vince... Gli arti perduti possono essere recuperati... A fine ripresa... Datevi la mano e iniziate a combattere! Ok... Oh cavolo ma... Ahia... Cazzo... Fai malissimo... Tipo... Fai malissimo... Come cazzo... Non lo posso acciabatterlo? Cazzo... Mi sta facendo malissimo... Cazzo... Mi sta facendo malissimo... Per cazzo... Che cazzo sono gli arti da raccogliere? Oh... Ma dove sono? Oh no... Eh... Va bene... Lol... Va bene... Eh... Ho qualche problemino... Oh povero me... Non va troppo bene... Non è vero? Al contrario... Professore... Va tutto molto bene... Ancora una volta ho sconfitto l'eroe... E ho preso una ragazza... Ecco... Ecco... Iron Slugger... Eh... Devo rifarlo... Ok... Aia... Ma hai fatto malissimo! Eh... Devo rifarlo... Aia... 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 E dai Mi fa malissimo Non riesco a capire Aia Siamo al top però Ce la sento un arto però Ho ripreso un Una mano praticamente Un braccio scusate Vedi che non puoi neanche Cioè ora spiegami Mi sono dei colpi alle palle Non lo so Ok è già due Ok ragazzi mi sento un po' rocky Pazzo stronzo Aia Aia Mi fai malissimo Aia Oh Oh Attenzione Malissimo Sì vabbè Ti stai facendo un po' troppe Ok 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 Abbiamo ripreso l'art Almeno Oh No Stronzo No Maledetto No Maledetto Stronzo Ma è fortissimo Ragazzi Cioè veramente È un casino da battere Sto qua No Ok cosa faccio No 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 Ok Dai Le due braccia Le due braccia Abbiamo tese Eh Daiela Pazzo Attenzione Anche lui Ahia Falle malissimo 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 No Via 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 No No Ce l'avevano quasi fatta Non ci credo Ok 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 ragazzi Allora Praticamente Appena gli stacchi un braccio Inizia a sclerare Un pochettino lui Quindi fa fatica Doviene solamente riuscire A staccargli almeno un braccio Ragazzi Madonna che casino Adriana Adriana Nosca Via 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 Perché no Ok 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 Via Via Grazie a sclerare Grazie a sclerare Grazie a sclerare No no che perdo troppo Altrimenti Dai dai Finché solamente un arto Va bene Dobbiamo solamente cercare di non Ecco perdere troppi arti Cacchio è l'altro arto Eccola Ok Ok 198 Ottimo Ah quindi ti ricarichi proprio di tutto Ok Non so che male Male Malissimo Vai Vai Ok ok Azza che male Via 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 Due Uno Aspettate che dobbiamo subiettissimo prenderlo No Perché ti metti sempre qua dalle provviste Ok 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 Perfetto Madosca questo qua è veramente tosto Stronzo Sì ma perché Oh Iniziamo un po' a farti male anche a te Perché non è mica giusto Vediamo il sangue vogliamo Via 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 11 10 Dobbiamo avarci sempre almeno quasi tutti gli arti ragazzi Perché fa veramente male sto stronzo Via 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 Ottimo Dove è andato? Dove è l'arto? Dove è l'arto? Di qua Ok Ok perfetto Perfetto Se continuiamo a far così ragazzi ce la facciamo Madosca Vai Adriana Adriana Madonna Muoreci male Muoreci male Muoreci male Sì Sì Muoreci male Porco Due Muoreci male Vai 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 Sì Sì Adriana Grandissimo Madosca ragazzi Madosca Maledizione Che tu sia maledetto Pensi di avere vinto? Verrà il mio giorno E quando accadrà Io Yeah Mamma mia Mamma mia ragazzi Che casino Il laboratorio del professore perché abbiamo preso il calice nel Prima E quindi Yeah Uff Ok Il calice è preso Ho fatto un lavoretto alla tua spada Vedrai Noterai la differenza È incantata E se esaurisce l'energia L'imbroglione sarà in grado di ricaricarla per te Ah Ottimo Vediamola Non è che ci dà un po' di curette qualcosa Siamo messi un po' male con cura Però va bene Vediamo che dice Ebbene Ebbene Attenzione Perchè hai continuato a palpare il culo? Sir Fortes Dan Mi hai liberato da tomba Ora non imprigionarmi in un'altra Voglio vedere il mondo Ci sta Attenzione Io volevo andare a Whitechapel però Porco due Vabbè Ok Niente ragazzuori Allora ci vediamo nel prossimo episodio Dove andremo avanti E vi ricordo sempre ragazzi LOL Scusate Vi ricordo sempre ragazzi Di mettere un mi piace Se vi è piaciuto il video Iscrivervi Così almeno so anch'io se vi sono piaciute le cose Ci vediamo nel prossimo episodio Alla prossima Ciao ragazzi E ricordatevi Adriana